Amici di Wall Street Italia, siamo all'undicesima edizione del Certificate Awards italiani. Siamo con Davide Massenzana di Credit Suisse, salita sul podio per il premio Best Newcomer di quest'anno. Buonasera Davide. Buonasera. Quanto è stata importante l'innovazione per raggiungere questo traguardo? Credit Suisse ha avuto l'ambizione di tornare sul mondo dei Certificates da parecchi anni, finalmente abbiamo fatto ripartire l'attività, però l'innovazione è una parte integrante nel nostro processo di costruzione dei prodotti, quindi per questi prodotti che abbiamo lanciato durante l'anno ci siamo affidati molto alle nostre risorse interne, abbiamo sviluppato dei modelli che cercano di costruire dei prodotti che sviluppano delle caratteristiche idonee al profilo degli investitori e soprattutto sfruttano quelle che sono, per esempio, la ricerca interna di Credit Suisse per trovare dei prodotti che limitano quelli che siano il downside per i clienti e cercare di ottimizzare la parte di rendimento.